Sono Adriana Circo, ho 62 anni, sono nata e cresciuta a Turri di Montegrotto Terme, la mia città bellissima. Ho potuto in questi cinque anni ammirare il lavoro svolto da Riccardo Mortandello e la sua lista, ha dato decoro e dignità a questo paese e ai suoi cittadini. Sono in pensione da un po' di tempo e per questo la mia disponibilità e il mio tempo lo voglio dare ai cittadini per dare un contributo ancora a questo paese. Perciò votate Riccardo Mortandello sindaco e la sua lista e se volete la preferenza ad Adriana Circo.